eccoci qua ragazzi oggi testiamo questo mini tri che dal deltaplano e su questo mini tra che abbiamo montato questo bel minari 200 pro che eliminare 200 con frizione ok diamo un po come gira racconta giri qua ok ok ovviamente questo flash start il motore parte bene con una mano semplicissimo acceleriamo un pochettino il motore anche a bassi regimi non ratta gira bello pulito non fa borbottini mancamenti non 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 Vibrazione quasi zero 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 Vibrazione quasi zero